Arriva qualcosa. Qualcosa che ha fame di sangue. Che cos'è? Il Demo Gorgon! Siamo nella merda! E andiamo! Ciao, ci vediamo domani. Buonanotte, ragazzi. Baciami tua madre. Will è sparito. Non so dove si è. 99 volte su 100, quando un ragazzo scompare, il ragazzo è con un genitore o un parente. E che mi dici dell'altra volta? Cosa? Tu hai detto 99 volte su 100. E quell'altra volta, quella. Will! Will! Ragazzi, dobbiamo tornare indietro. Ragazzi, avete sentito? Non è Will. Hai dei problemi, vero? Abbiamo sigillato l'area. È da qui che è venuto? Sì. E la ragazza? Non può essere andata lontano. Trovatela. Credi che sia una coincidenza averla trovata dove Will è scomparso? Sta succedendo qualcosa qui? Ma che diavolo? Lei sa di Will! Puoi raggiungere Will? In qualche modo? Sì. Giada! Nessie! Via, via, via! E se invece di seguire Will io avessi... seguito le tracce di qualcos'altro? con ertez di qui è quello. No. ede. No. 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 Grazie a tutti.